È una campagna rivolta ai nostri tifosi che purtroppo per due anni non ci hanno potuto seguire, è rivolta tutta a loro, è rivolta anche con il sacrificio dei nostri sponsor. Mi spiego meglio perché per andare nel dettaglio dei posti rimane il parterre che è aperto solamente per i nostri sponsor ma i posti non sono sufficienti per loro. Si privano di una parte di posti per darli agli abbonati nostri così ci sarà più capienza nelle curve e nelle gradinate. Nella speranza che tutti vengano, più o meno, ancora i numeri non sono precisi ma forse se siamo bravi riusciamo a farli entrare tutti i vecchi abbonati. E' chiaro che finita la campagna abbonamenti i posti che rimangono invenduti rimarranno invenduti e verranno ridati agli sponsor che si sono sacrificati in precedenza. Questo dopo otto anni di presidenza è l'anno in cui abbiamo investito di più nel roster. E' la squadra che ci è costata di più. Noi siamo molto molto carichi, il coach è felicissimo. Pensiamo di aver fatto una gran squadra che farà divertire moltissimo i nostri tifosi. Penso di poter dire che noi abbiamo un palasport che a livello nazionale forse è secondo solo a Milano a livello di capienza. Quindi abbiamo la possibilità comunque con le nuove normative in vigore causa pandemia di poter far entrare un numero di persone interessante. Quindi io mi auguro che si possa fare un numero importante di abbonati. La cosa secondo me innovativa e intrigante è il fatto che solo gli abbonati potranno entrare. Quindi le biglietterie come obiettivo non verranno aperte. Quindi mi auguro che ci sia comunque un'attenzione e soprattutto si vada un po' anche a premeare gli sforzi che la società ha fatto negli ultimi due anni. Quindi teniamo presente che l'anno scorso chiaramente non si è potuto far conto su una parte importante per il nostro budget che è quella appunto degli abbonati. Quindi speriamo che quest'anno ci sia una buona risposta. Del resto è stata costruita anche una squadra che credo possa dare delle aspettative comunque interessanti per la stagione. La prelazione sarà dal 13 al 23 di settembre. Mentre invece per i nuovi abbonati dal 24 di settembre al 4 di ottobre. Chi ha la WL Card avrà uno sconto. I vecchi abbonati vengono azzerati nel senso che i posti che avevano storici chiaramente con il Covid viene azzerato tutto quanto. L'abbonato avrà la prelazione per potersi scegliere il nuovo posto. Quindi chi prima arriva meglio sceglie.